Stai cercando lavoro come venditore o come commerciale e hai iniziato a fare dei colloqui? Cosa ti hanno detto riguardo ai problemi che derivano da non avere una formazione adeguata? E cosa ti hanno detto riguardo a quante ore di formazione ti erogaranno per renderti competente? Quanti affiancamenti sul campo da parte di un responsabile esperto ti metteranno a disposizione? Qual è il tuo percorso di formazione e poi di carriera? Tempi e obiettivi definiti in maniera numerica precisa non generici. Che percentuali di persone riescono a creare una carriera stabile nella loro azienda? Possibilità di parlare con qualcuno dei loro collaboratori per avere riscontro di quello che ti hanno proposto? Se non ti hanno detto nulla o al limite ti hanno detto qualche banalità insufficiente a farti stare tranquillo, allora dovresti considerare di rivolgere la tua candidatura a un'azienda trasparente e che investe continuamente sui propri collaboratori. Nella mia azienda per esempio non c'è nemmeno bisogno che fai queste domande perché ai candidati in gamba che passano i primi step della selezione le informazioni le forniamo già noi senza che ce le chiedano e li portiamo subito a fare un giro dell'azienda per fargli conoscere i componenti della squadra così che possano rendersi conto di persona. Se stai cercando un lavoro come venditore o come commerciale e vuoi lavorare in un'azienda che rispetta le promesse e che mette la formazione e la carriera dei propri collaboratori al primo posto allora inviami la tua candidatura. A tuo successo e alla tua carriera.